Lo scorso fine settimana si è tenuta la prima edizione di Garda Fighting, manifestazione dedicata alle arti marziali. L'evento è stato organizzato dalla Fusion Art ASD di Paolo Bariletti con l'aiuto di Anita Borrelli e Cristian Novali. Una a due giorni nella quale sono stati coinvolti amatori e professionisti delle discipline di combattimento in un evento aperto al pubblico con l'obiettivo di far conoscere alla cittadinanza questo sport. La giornata ha avuto inizio con uno stage tecnico di kickboxing e successivamente si sono tenuti numerosi combattimenti tra amatori della zona e da molte parti d'Italia. La giornata si è conclusa con il galà serale durante il quale si sono esibiti atleti professionisti intervallati da spettacoli di danza. Venti gli atleti professionisti provenienti da tutta Italia che si sono sfidati nei diversi incontri. Bella prestazione anche per gli atleti di casa Ouda Boutetia, Silvano Bolognani e Domenico Farcito del Team Fusion Art che hanno vinto nella loro categoria. Gli organizzatori sono soddisfatti del risultato sia in termini sportivi che di affluenza. Più di 150 persone hanno partecipato alla cena a Bordoring ed erano presenti sulle tribune più di 500 spettatori. A Giulia Biondo e Beatrice Ferrari compito di intrattenere gli ospiti con i loro spettacoli di danza.